Musica Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Pixelmon Ci vediamo oggi finalmente nel terzo episodio So che ragazzi dovevo uscire domenica Ma purtroppo ero a Luca Comics e non ho potuto registrare questo video Durante la settimana in cui mi pre-registravo tutti quanti i video del weekend Quindi ragazzi comunque vi lascio un like e un commento Sto notando di questo video vi piace davvero tantissimo Quindi continuate a supportarla sotto nei commenti Con qualche aiuto, con qualche ora Perché ragazzi lo sapete che comunque ogni tanto Sbaglio a dire qualcosa e ho l'ansia Vado a chiudere la persona perché c'è la gente che mi guarda fuori Ciao Ah, si arrivi Cosa faremo nell'episodio di oggi Innanzitutto, bella gentaglia che voi non siete altro A parte di qua c'è ancora la farm infinita di Ultra Ball Che bello Oh starà via Calma, bomber, torna qua bomber Bomber, ma quanto è buggato oggi Vieni, oh là, finally Comunque, dicevamo ragazzi Allora, qua abbiamo tutta quanta la nostra vita Stiamo a fare gli cocchi come sempre Ogni universo e oltre Proprio davanti a casa Ormai ci siamo abituati Poi abbiamo a casa nostra E ho letto Ma quanto laggo oggi raga Ho letto nei commenti ragazzi Che come sempre voi siete molto buoni A darmi consigli di tutto quanto E mi avete detto Ma sei un pirla Perché non metti le glicocche Nella chest sopra Poi metti una fornace con gli opere Tutto quanto ragazzi Avete anche Infatti oggi Noi sistemeremo questa faccenda qua Un attimo delle chest Poi andremo anche un pochino in esplorazione Visto che voglio anche cercare Un po' di altri pokemon E far evolvere i miei Poi ragazzi Mi avete detto anche Che con tutto lo zaffir E tutte le robe strane che ho Tipo dove cazzo Mi trovo le robe Allora qua c'è Ma io ci ho fatto dire Allora poi oggi faremo anche Per esempio Non mi viene in mente la parola Cazzo mi viene in mente la parola Ok Il computer e il pc ragazzi Dove metteremo magari Nella stanza qua in alto Perché ragazzi Sinceramente Noi dobbiamo dare un senso A queste stanze qua Quindi noi metteremo qua Il pokedex Con l'healer E tutto quanto Perché non mi piace tanto Che sia qua in bella vista E poi qua comunque ragazzi Abbiamo sempre la nostra Prissima chest Con le cose un po' più strane Che noi troviamo sempre Dicevamo ragazzi Quindi oggi Noi faremo un pochino Di crafting Perché comunque Mi piace magari Riempire inizialmente Un po' la casa E poi andremo anche A cercare i vari pokemon Come notate comunque Non ho livellato molto Perché comunque Ero sempre a Roma Quindi sti grandissimi cazzi Allora Vediamo un attimino Mi avete anche detto Che se io prendo Lo zaffiro Dove è? Allora no il rubino E ci faccio Il martello Con il rubino Ragazzi Io C'è un'altra probabilità Che il rubino Comunque sia più Comodo del ferro Cioè che sia più veloce Vediamo un attimino Proviamo a fare Questo disco qua al volo Ragazzi Non è che cambi molto Sì c'è qualche secondo In più di velocità Però sì Grandissimi cazzi Abbiamo fatto un robo in più Ecco andiamo a mettere Magari via le robe Che ora come ora Ma quanto sto laggando Sono inutili Allora Però devo mettere via bene Le ceste rega Perché Prendiamo poi i dischi Qua Le pokeball Le mettiamo tutte In questa bellissima Apriti Quanto lagga Sto servo Ciao Bomber Ti voglio mettere nel Pokédex Hunter Allora Combattiamo Dai vai Bomber Come Devo lanciare il Pokémon Vero No No Staravia torna Staravia torna Cosa Che bug sta succedendo Ma io come faccio A giocare contro Hunter Non riesco a prenderlo Staravia torna qua Porca zozza Bravo Non riesco a combattere Rega Vaffanculo Quello cos'è Ah sì Nera cross Vabbè ho capito Dai Staravia torna Dai torniamo a casa Tanto con Hunter Non ci combatterò mai Se noi ci craftiamo Innanzitutto Volevo fare delle cose Molto molto semplici Fare Eh cosa volevo fare Ah sì Allora Innanzitutto Qua noi ci mettiamo E facciamo un pochino Di tramogge Allora Visto che noi dobbiamo fare Noi servissime tramogge Ci serve tanto Ma tanto Ma tanto Ferro Io mi voglio chiedere Perché ho fatto uno stack E mezzo di dischi Io sono proprio un coglione Quanto ferro abbiamo qua? Zero Quanto ferro abbiamo qua? Zero Quanto ferro abbiamo in questa Ciascua? Cinque Fottutissimi Pezzi Di ferro Questo significa che Mossi corre in caverna A raccogliere altra merda Perché io C'ho tanto tempo da perdere oggi Visto che non dovevo nemmeno Registrare visto Visto che ho già uscito Disco di blu Dove cazzo è la mia caverna Bellissima Ho messo anche Minecraft in italiano Perché mi aiuta un botto Nella pixamo Perché l'altra volta Mi sono preso solo insulti Di gente E mi dice Marco sono un coglione Come pretendi che con l'attacco Perché c'era dell'oro Che non ho mai raccolto Sopra un waypoint Grazie mamma Mi avete insultato un pochino Mi avete detto Marco ma anche te Usi attacco coda Sui pokemon Poi ti lamenti Che ti risciotto C'avete anche ragione C'avete proprio ragione Proviamo ad andare un po' più in qua A scavare Per vedere cosa c'è Di qua non siamo ancora andati Infatti cosa trovi subito La metista Ti pareva che non la trovavi Buonasera rega Rega buongiorno Dugdrio Rega Rega un Dugdrio Vi catturo così a cazzo Ma quanto Io non posso catturare Cosa è successo Perché sono discraftati Perché non posso catturarvi Ma cosa sta succedendo Rega io non mi esprimo Oggi il lag Non mi vuole far catturare i pokemon Quanto sto pingando io 497 What No Dov'è Sta morendo No 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 Ti prego non morire Non morire Devo fare qualcosa Io vi volevo salvare Rega Vi volevo salvare Però Sono morti così Vari Piccoli Dugdrio Vi vorrò per sempre bene ragazzi Per sempre nel nostro cuore Rega Hashtag Dugdrio nel cuore Diglett Bomber Allora Prima Probabilmente I tuoi genitori sono morti in vani Dove stai scappando Diglett Non devi morire anche te Allora Io ti voglio catturare La mia bellissima Ultramo Diglett Perché tu sei un Diglett Diglett Allora Io Io non so cosa fare Contro di voi Cazzo Oh Finali Allora Facciamo un po' combattere la gente Allora però Essendo un Diglett A livello 11 Io volevo Far Attivare il mio bellissimo Squirtle Ma io con sta visuale Non capisco una figa Vabbè io volevo usare bolla Contro Bond Diglett Quindi Allora Squirtle attaccalo Bravo che hai tolto più vita Poi ancora con bolla Vai Squirtle Bravissimo Che super efficace Grande Bomber Vai ancora con bolla No Squirtle Non devi morire Grande Squirtle Cazzo Ha fatto un bellissimo livello E noi spacchiamo i culi Ah che bella sta sabbia Gente ci siamo Ah regà Buongiorno Ci siamo Apriti Madonna mia Lag Allora Quanto ferro abbiamo 38 pezzi di ferro Più da un'altra parte Ne abbiamo ancora un po' Quindi mettiamolo qua a cuocere Togliamoci queste cose al volo Mettiamo qua a cuocere Intanto magari Libriamoci un attimino L'inventario da tutta la merda Poi dopo ci pensiamo anche Un pochino a smistare Però regà Non posso con tutto sto casino Andare avanti così Allora mettiamo via queste robe Qua nel loro chest Quindi qua ce ne sono altre Ghiocche Poi le verdi Le rosse erano di qua Se non erro Quindi qua c'erano le rosse Qua aspettiamo che cuocia Tutto questo ferro Poi ci mettiamo a fare gli hopper Perché ce ne serve Due per chest Perché abbiamo Prima chest Hopper Fornace Hopper chest Quindi qua ci va l'hopper Ed è tutto calcolato ragazzi Perché se lo scavassi qua Però mi serve un'ascia Che è qua Perfetto Allora noi scaviamo qua sotto Però Mi serve fare un altro strato Di casa Qua ci va La mia chest Iniziale Quindi qua ci va Una chest Poi Io Ci metto Un hopper Che è collegato Alla chest Qui togliamo un attimo Le torce Ci va la fornace Che devo craftarmi Un pochino di fornaci Anzi no Ma perché devo craftarle Ce l'ho qua Non devo buttare i miei materiali Qua La nostra bellissima fornace C'era le Oddio C'era un foto di oro Dentro Di ferro Noi ci attacchiamo La nostra bellissima fornace Noi Ci mettiamo Eh no È alta di un blocco Troppo Ok Qua Spacchiamo E andiamo su Facciamo tutto quanto A livello pavimento A questo punto Perché tanto Non ci cambia niente Qua spacchiamo tutto Io la chest Dovrei metterla A livello pavimento Quindi così La tramoggia Gliela mettiamo qua sotto Poi Io gli piazzo La fornace Sotto al culo Che dove cazzo Ok Ma cosa sta succedendo A questo server Che mi dà cosa in mano a random Tecnicamente così Dovrebbe funzionare Raga Vediamo un attimino Quindi noi mettiamo Qua le robe a cuocere Datemi Delle Glicocche Così da cuocere Io gli metto Le glicocche Dentro Alla chest Poi Vediamo se Le porta giù A cuocere Ok Me le sta cuocendo Perfetto Le sta prendendo Tutte quante Ok E poi mi finisco Dentro la chest Vediamo un attimino Ok Ok Funziona Funziona molto Ma molto bene Grazie ragazzi Per questo consiglio Ora mi metto Magari a fare Tutto quanto Al volo Molto velocemente E sistemiamo Tutto quanto Perché comunque È un sistema Non un po' automatico Ma anche molto Ma molto comodo Ragazzi Qua abbiamo fatto Tutto quanto Qua perché Sto uscendo Oh Queste venti bianche Queste qua Le ho messe dentro Zio Mi cazzi permetti 118 Che perfetto Raga Qua sta lavorando Tutto quanto Come si deve Che bello Rega Che bello Sono troppo Sono troppo felice Allora A posto di dire Continuare di essere Stronzate Ragazzi È il momento Buono Per fare Seriamente Qualcosa Oggi Come vi ho detto Oltre a rimettere a posto Questa parte qua Di casa Volevo fare anche Il pc E se riesco Anche il pokedex Rega Se non mi sbaglio Allora Iniziamo a vedere Un po' il craft In pc Perché ho qua La wiki a fianco Allora Ragazzi Per fare il pc C'è scritto Che mi serve Il vetro Che dovrei avere Non in questo Io odio Quando laggo Ve lo giuro Dovrei avere qua dentro Ok Poi mi serve Una redstone lamp Che si fa Così Ragazzi C'è un problema Mi serve La redstone lamp Che si crafta Con 4 pezzi Redstone Ha il blocco Di glowstone In mezzo Non ho la glowstone Adesso Controllare Chi mi Chi mi droppa La glowstone Perché ora mi sfugge La danno I pokemon Di tipo Elettrico Io dovrei aver Combattuto Qualche pokemon Tipo elettrico In qualche parte Dovrei aver messo Qualcosa Male male Devo andare a cercare Qualche pokemon Tipo elettrico Come se mi serve La glowstone No ragazzi Sapete cosa faccio Ma vado a rubare A qualcuno Merde Merde Ho un bomber A livello 6 Vuol dire che potrei Molto Easy Proprio easy Easy Combattere Con Allora Ok Perfetto Così Possiamo già distruggerlo E far sì che il nostro squirto Si livelli un pochino Allora Facciamo un pochino I moss Tipo Bolla Bomber Dai Vedi Morino Non prendo il cazzo Forza Forza Bravo Squirto Dai Cazzo Uno skit No tumore Due livelli Non è che dici Però qua raga Non ne trovo Mi sa di pokemon Cioè oddio Di pokemon Proprio di livello Elettrico Perché mi va a culo Ogni volta che voglio registrare qualcosa Non gli ha a foco Quindi mi sa che sarà Tipo tutto troll Dove devo andare in giro Perché troverai Un cavallo di fuoco Gloom Allora però Voglio Se vuoi combattere con me Gloom Gli farò contro il mio Graveler Quindi allora Calma un attimo Ecco un bel sassata Oh mio dio Scusami Gloom Non volevo Ciao Ciao Ah è Rapidash Oddio fa totalmente male Che non si capisce Io Guarda io te la sparo Così una pokeball Una ultriball Però ti devo catturare Ho preso un Rapidash A cazzo Seriamente Raga ma di che cosa Stiamo parlando Rapidash Tu sei primo Qua in alto Proprio da Andiamo in giro A spaccare i culi Ora Cosa What are we talking about Io mi ritento lo sculo Raga Ora ora Ma porco due Sto lanciando Pokeball Ecco lo tu morro Questa serie qua È tutta buggata Raga Molto ma molto bene Oh mio dio Che cosa minuscola sei PG Ragazzi Ormai La mia spedizione Sta tipo Diventando qualcosa Delirante Perché non sto trovando Più nessun pokemon Decente A far vedere in video Io penso di fare Tutto un altro video Però poi Mi sono bloccato Sul fatto che Non avendo la glowstone E non trovando Molti pokemon Che me la droppano È un po' Difficil Ottoli Perché c'è della luce Non lo so Intanto io sono finito Più meno in una zona Di acqua Sabbia Un po' Un casino Mi sono allontanato Tantissimo Con una nota Tipo di 2000 metri Quindi 2000 blocchi Praticamente ragazzi Tiriamo fuori Rapidash A mano libera Proviamo a cavalcarlo Vediamo un attimino Se mi fa Ok dai Andiamo Magari No Ma perché Devo picchiarti Geodude Dimmi per quale motivo Deba farlo Fuocobomba Caro Geodude Sei stato molto simpatico Grazie per aver Tutte le pari Il mio bellissimo Rapidash Che spedizione Fallimentare Che i papaveri Sono alti 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 Ragazzi Sono troppo distanti Sono a 3000 blocchi Di distanza E ormai Secondo me È una spedizione Davvero fallimentare Perché vi giuro Su me stesso Che ho solamente Trovato pokemon Che non cercavo Regà Magari consigliatemi Voi nei commenti Come potrei trovare La glowstone In un altro modo Perché Non potendo andare Nel nether Perché Non posso prendere L'ossidiana Anzi però L'ossidiana Potrebbe ora Prenderla col piccone In zaffiro Torniamo a casa Torniamo a casa Io prendo Il mio bucket D'acqua Ci faccio Un pochino Di ossidiana È tolto tutto Non devo Devo togliermela Ok Togliamo l'acqua Poi proviamo un attimino A vedere se col piccone In zaffiro Posso prendere Questa ossidiana Io non credo Eh raga Però io un tentativo Ce lo faccio No Non funziona Non funziona No Dai per favore Per favore Non voglio prendere Io non voglio trovare Il diamante così Senza che io me ne accorga Ogni volta Dai Zio cantante Questo è diamante Questo è diamante Così a random Vabbè Se me lo dite così Però io mi faccio Il pokedex Perché sembra Il pokedex Per favore Ma che sculata è Ma che perché Perché tutta me Fermi un attimo Sì raga Posso farmi l'healer Posso farmi il mio Fottutissimo Healer Personale Andiamo a farcelo A meno Questo episodio qua Avrà un senso Di esistere Allora Per fare Le nostre bellissime Piastre alluminio Da quanto ho capito Bisogna piazzarlo qua Quindi noi bisogna Lavorarlo Così Da quanto ho capito Raga Per togliere la pioggia Mi sta facendo impazzire Dammi Sto cazzo Di Ok Mi hai dato Bravissimo Allora Slash toggle Downfall E vabbè E vabbè Ci servono Quindi Uno Due Tre Quattro Pezzi di alluminio Va benissimo E poi il nostro Healer Rega Ce lo nascondiamo Perché non vuoi Che gli altri Mello rubino Ok Abbiamo Quattro Lastre Di alluminio Abbiamo Non abbiamo Il ferro Quindi qua Prendiamoci il nostro Bellissimo ferro Che è da qualche parte Dov'è il nostro Ferro Eccolo qua Il nostro Bellissimo ferro Qua noi Ci mettiamo Le nostre Bellissime Piastre Di alluminio Qua così Poi ci mettiamo Un diamante In mezzo Poi Tac 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 Boom Il nostro Bellissimo Healer Personale Noi ce lo andiamo A prendere Ce lo andiamo A mettere Da qualche parte Segreta Tipo Qua Qua voglio mettere Il nostro Bellissimo Healer Perché mi ne ha dati Così tanti Perché ne ho due Che è sto bug No no Rega Non sto capendo Cioè io Ho quanti Healer Voglio No no Non sto capendo Raga Cioè Healer Infiniti Ah Che Boh Mi sembra una cosa Un po' strana Però Vabbè Vabbè Ragazzi Io direi Per questo episodio Tutti i braconi Io spero Che vi sia piaciuto Vi invito a lasciare Vi lasciare un bello Se il commento Iscrivetevi al canale Se lo avete fatto Da Mark è tutto Bella